Categoria pesi medi, 185 libri, un round da 10 minuti, arbitra Lorenzo Spoto, chiamiamola l'angolo bianco per il team medside, 180 libri di peso, Marco Vandenhi. Contro di lui, all'angolo nero, 182.2 libri per il team luta-lidre, Cesare Mussoni. Cesare Mussoni. Grazie. 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 Siamo al vertetto, vince questo incontro per decisione l'angolo nero Cesare Mussoni.